Il gol a partenza, un saluto alla mazza, c'è buio, ci sono i ripresi dei fari, attenzione. C'è Luisi, se c'è qualcuno che lo ritira, lo ritira l'avvento, al terzo posto Gianfranco e Bargnani del Precio Marathon, del Precio Marathon che ritira per Gianfranco, i 200 adesso, mentre ecco il 400, gli ultimi 150 metri, abbiamo anche Vittorio Luina, secondo posto, MM75, adesso c'è la rete. Ecco in curva, quinta corsia per Ugo Ficcio di Cappelli, un grosso applauso, il motista italiano degli 800 metri, oggi impegnatemi 400, grande, grande Ugo Ficcio Marathon. Beh, mito, adesso non esageriamo, vabbè, mauricio Sporzi, insomma, dai, bravo, forse. Come Dio, c'erano Gianfranco Bargnani, il compagno di squadra, poi Vittorio Luina, della Federica di Gomezzane, il vento mito dell'arrivo bussato. Beh, però, se ti giravi, anche di qua, strano che non ti giri, eh, ti giri sempre, adesso pure giusta. Ma come, voi sei andato a Dio? Dai, sorriso per la stampa, non ci siamo. E la seconda serie, dalla prima alla sesta, ci saranno a Maffè, a Tocco, ciao.